Perché non si sentano soli! Questa piazza è con loro! Scrivono, come Angest International sa bene, i diritti umani sono indivisibili e non possono avere confini, esattamente come la musica. Per questo quello che sta succedendo in questa piazza, la nostra piazza, è così importante. Grazie mille a tutti voi che siete qui per divertirvi, cantare e chiedere insieme il rispetto dei diritti per tutte le persone. Grazie! Non smettiamo di chiedere insieme verità per Giulio e per tutte le persone che sono state private dei diritti e della libertà. Buon primo maggio a tutti! Paola e Claudio Reggeni! A te la parola Riccardo. Queste settimane a me continuano a venire in mente le parole che scrisse un grande italiano, che è Paolo Pasolini. nel 1974 scrisse Pasolini. Io so, io so, anche io so, anche voi sapete, milioni di italiani lo sanno, milioni di egiziani lo sanno. sanno il contesto nel quale Giulio Reggeni è stato arrestato, è stato vittimo di una sparizione forzata, è stato torturato per giorni, selvaggiamente, e poi è stato ammazzato. Perché sul suo corpo sono firme. E noi abbiamo questo interesse una tua firma, la conosciamo, la vediamo sui torpi di centinaia e centinaia di vittime di tortura ogni santo giorno. e l'abbiamo vista con la firma su tanti torpi di cittadini egiziani, i quali erano perfetti sconosciuti per le istituzioni di questo paese. perché questo paese porta avanti i rapporti di politica estera con altri paesi, ignorando la situazione dei diritti umani, perché tanto i morti sono loro, e adesso il morto è il nostro. E come facciamo? E allora, quel terimetro, quel contesto in cui Giulio è stato arrestato, fatto sparire, torturato, ucciso, è il contesto che le violazioni dei diritti umani in Egitto, dove la tortura e l'esparizione sono una pratica quotidiana. E se c'è qualcuno che è in Egitto, chissà, che è in Italia, pensa che col tempo lasceremo andare, ci occuperemo di qualche versione che arriverà, perché il tempo in questi casi mi ammagano il cuore. Ma queste persone in Egitto, o eventualmente anche in Italia, diciamo che si sbagliano, si sbagliano enormemente, perché per il dato che Giulio e Eugenio non la continueremo a chiedere, dovessero passare anni, e non si arretreremo, non faremo un passo indietro, perché è quella verità, la dobbiamo, ai genitori di Giulio, alla sua famiglia, ai milioni di italiani che hanno preso parte e stanno prendendo parte a questa campagna, la dobbiamo, alle mamme e ai ragazzi dei sentinelli di egiziano che hanno risolvito la stessa fine. E fino a quando la verità non ce l'avremo, fino a quando non ci diranno, chi è permesso che la firma della cittura sul campo di Giulio non ci faremo. E grazie per darci una mano, grazie per seguire Amnesty International, che è presente in tutta la Puglia, anche qui a Taranto, a Cercatola, Dato Cinemono, fate parte per Giulio, grazie. Aspetta, aspetta, facciamo partire un cuore, perché è importante. Uno di noi, e Giulio è uno di noi, uno di noi, e Giulio è uno di noi. Uno di noi, partire a uno di noi, uno di noi, partire a un cuore. Per la mamma e il papà di Giulio, facciamoci sentire, parato, tutto il calore di cui sei in grado, fa lavorare al nord, a questa famiglia. Grazie. Grazie, grazie a tutti, a tutti, dopo il prelegio. Grazie mille. Questo è il prelegio.